Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 News. Apertura con la cronaca mafia carcere duro per tre esponenti del clan Striciuglio di Bari, tra questi Lorenzo Caldarola ritenuto al vertice del gruppo criminale. Disposto il regime di carcere duro 41 bis per Lorenzo Caldarola, Vito Valentino e Alessandro Ruta, esponenti di spicco del clan Striciuglio operante nei quartieri Libertà e San Paolo di Bari. Caldarola, ritenuto leader del clan in più sentenze e passate in giudicato, avrebbe continuato a dirigere l'attività di spaccio del suo gruppo criminale anche durante la sua detenzione in carcere, sia comunicando con l'esterno tramite i propri familiari, sia utilizzando cellulari clandestinamente introdotti in carcere. Valentino è stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Domenico D'Ambrosio, compiuto nel 2003 quando Valentino era ancora minorenne. Anche tramite le dichiarazioni di collaborazione di giustizia è stato provato, secondo la magistratura, il suo inserimento come figura strategica all'interno del clan Striciuglio. Alessandro Ruta è ritenuto il capo dell'articolazione del clan nel quartiere San Paolo, è stato già condannato in via definitiva per associazione mafiosa e avrebbe continuato a svolgere il suo ruolo all'interno del clan anche durante il periodo di detenzione. Parliamo di sanità in questa situazione difficile per la sanità pugliese, ci colpisce il silenzio assordante della regione a cui chiediamo di dire chiaramente quali risorse prevede di investire per il personale. Lo dice il segretario regionale della FIMMG Puglia, Donato Monopoli, spiegando le ragioni della proclamazione dello stato di agitazione dei medici di medicina generale pugliesi. Senza investimenti nelle risorse umane la situazione della sanità rischia di degenerare irrimediabilmente, aggiunge. Lo stato di agitazione prosegue, nasce da una profonda crisi della medicina generale pugliese. C'è una crescita sfissiante della burocrazia che sottrae sempre più tempo alla cura dei pazienti e dequalifica l'esercizio della professione aggravata da processi informatici tortuosi e non adeguati ai processi clinico-assistenziali e da un sistema sanitario regionale fortemente disaggregato e disorganizzato. A questo si aggiungono la carenza di personale, gli strascichi di due anni di emergenza pandemica e l'assoluta assenza di programmazione nazionale e regionale. I giovani medici lasciano gli incarichi dopo pochi mesi e i medici meno giovani che ne hanno la possibilità vanno in pensione in anticipo. Domenica si terrà l'Assemblea regionale a Bari alla presenza del segretario nazionale della FIMMG Silvestro Scott che annuncia, sosteniamo i colleghi anche in Puglia che hanno proclamato lo stato di agitazione e saremo a loro fianco e sarà presente anche il presidente FNO, MCO Filippo Anelli per dare appunto il suo supporto a questa situazione. E adesso andiamo a parlare del centro storico di portenza, ci sono delle criticità, è nata un'associazione proprio per fronteggiarle. Con l'obiettivo di creare sinergie tra residenti e autorità competenti in mondo dell'associazionismo e operatori commerciali si è costituita a potenza l'associazione culturale Il Centro Storico Potenza composta da residenti, commercianti e professionisti e presieduta dall'avvocato Giampaolo Carretta per rispondere all'esigenza di contrastare le innumerevoli criticità della via principale del capologo di Regione Lucano. Per raggiungere questo obiettivo hanno spiegato i fondatori durante un incontro con i giornalisti che si è tenuto nella sala della chiesa di San Michele in via Pretoria L'associazione vuole farsi parte attiva per individuare i percorsi più adeguati per la valorizzazione di un centro storico che sia attraente, coinvolgente e sicuro che invece ad oggi hanno denunciato vive un particolare momento di degrado Vi è la necessità di riallineare il Centro Storico di Potenza e i centri storici d'Italia subiamo sicuramente un depauperamento culturale, sociale, di rappresentatività ma penso che questa iniziativa dell'associazione del centro storico deve essere un'iniziativa apripista che si debba estendere a tutti i quartieri importanti della città perché ci sono problematiche peculiari del centro storico ma ci sono problematiche comuni con tutti i quartieri per arrivare alla grande associazione di potenza che ridia al centro storico e alla città per le problematiche comuni una nuova prospettiva L'associazione attraverso il confronto intergenerazionale e sinergico tra i vari operatori inaugurerà una discussione permanente sui temi strategici quale vivibilità, sicurezza, pulizia ed ecorurbano, completamento infrastrutturale, mobilità, viabilità, commercio e cultura Taranto, Lecce e Brindisi insieme per lo sviluppo sostenibile delle tre province presentato questa mattina è la Master Plan Terre d'Otranto vediamo di che si tratta Sostenibilità, partecipazione ma anche formazione, rafforzamento delle sinergie tra pubblico e privato gestione delle risorse del PNRR sono gli obiettivi del Master Plan della Terra d'Otranto presentato dall'Università del Salento in provincia a Taranto città che con Lecce e Brindisi ha una visione comune generare sviluppo sostenibile e maggiore benessere dunque per le comunità vogliamo insieme raggiungere al meglio gli obiettivi dei fondi comunitari come quelli del PNRR abbiamo anche la scadenza dei giochi del Mediterraneo nel 2026 che ci vedranno necessariamente insieme insomma con l'accompagnamento scientifico dell'Università del Salento che come sapete si sta per insediare a Taranto con un protocollo d'intesa ad hoc vogliamo stringere questa sinergia che credo potrà dare tante opportunità ai nostri giovani al nostro sistema di imprese e a tutti gli stakeholder territoriali L'occasione è propizia perché viviamo una stagione in cui arriveranno finanziamenti enormi e quindi dobbiamo necessariamente farci trovare pronti e fare in modo che ogni singolo euro che verrà speso in questo territorio possa produrre sviluppo, occupazione e miglioramento della vita sociale Da remoto sindaco e presidente della provincia di Lecce a gennaio la presentazione del masterplan alla regione storicamente vicine le tre province contano circa 2 milioni di abitanti e risentono ciascuna della prossimità dell'altra per questo si parla di un unico territorio Quello che succede a Taranto ad esempio sull'Ilva ha riflessi sul nostro territorio in termini ambientali, in termini di salute in termini occupazionali, mille lavoratori circa sono della provincia di Brindisi E' lo stesso, quello che succede nei nostri territori con i nostri impianti industriali riguarda Lecce, riguarda Taranto Insomma, il nostro modello di sviluppo per le conseguenze non si limita a dei confini geografici che normalmente sono sempre ovviamente virtuali non ci sono barriere fisiche al movimento delle merci, delle persone sono delle comunità che possono svilupparsi meglio se dialogano fra loro se lavorano insieme Lavorare sulla configurazione economica produttiva della terra d'Otranto vuol dire creare una polarità più forte di cui si avvantaggerà certamente tutta la regione Puglia e devo dire tutto il mezzogiorno Pirelli è inaugurato a Bari il Digital Solution Center un centro per l'innovazione digitale un altro colosso sceglie dunque la Puglia per nuovi insediamenti all'evento anche il governatore pugliese Michele Emiliano i rettori delle due università di Bari Stefano Bronzini e Francesco Cupertino vediamo i dettagli Anche Pirelli investe in Puglia si chiama Digital Solution Center ed è il primo centro di sviluppo interamente focalizzato sull'innovazione digitale nato a Bari con l'obiettivo di arricchire le competenze interne sulle aree più strategiche per Pirelli è il frutto di un impegno congiunto tra pubblico, privato e mondo accademico Ne abbiamo parlato, abbiamo raggiunto un accordo a aprile a settembre avevamo la sede e oggi abbiamo già assunto 11 persone da qui al 25 contiamo di assumere una cinquantina di giovani e le competenze che abbiamo trovato a Bari sono straordinarie Bari è un centro di eccellenza il lavoro che le università stanno facendo è estremamente positivo e riconosciuto abbiamo quindi un bacino importante di studenti e di neolaureati a cui attingere è un motivo di orgoglio per noi vuol dire che si è lavorati bene come sistema universitario pugliese e in particolare qui a Bari avere ed essere con Pirelli insieme è sicuramente un segno virtuoso per l'intera regione Politecnico seguirà degli aspetti legati all'applicazione delle tecnologie digitali alla realizzazione e all'utilizzo dei pneumatici le attività che cominceremo saranno inizialmente orientate alla progettazione dei pneumatici in modo tale da limitarne la rumorosità e anche alla capacità di analizzare i dati per prevedere il consumo dei pneumatici Un'altra grande azienda che sceglie la Puglia Siamo molto attrattivi in questo momento perché nonostante tutte le difficoltà nelle quali si trova l'Italia e si trova il mondo la Puglia rimane un luogo della chiarezza abbiamo un'efficienza della pubblica amministrazione che può essere molto migliorata ma è tra le migliori d'Europa siamo attenti, ci entusiasmiamo facilmente quando qualcuno viene qui come ha fatto Pirelli come hanno fatto altri in precedenza e ci raccontano i loro progetti normalmente entriamo a far parte del team di progettazione ovviamente sulla base di quello che facciamo Spettro dei disturbi dell'autismo una tavola rotonda per discutere sul tema è stata organizzata dall'ASL Taranto e Università di Bari Una giornata di confronto sul tema dell'autismo è stata organizzata da ASL Taranto insieme all'Università degli Studi di Bari per riflettere sui disturbi dello spettro autistico di cui ancora si conosce poco Università, Mondo della Sanità e Associazioni si sono ritrovati per tracciare percorsi sulle evidenze scientifiche su questi disturbi e sulle evidenze di intervento Nella mia esperienza direttore sanitario, direttore generale è emerso un grido di allarme una richiesta d'aiuto da parte di tante famiglie che sono disorientate famiglie, genitori di bambini autistici che hanno difficoltà a orientarsi nei servizi molte volte le diagnosi vengono fatte all'Università però poi non c'è una dimissione protetta nell'affidamento ai servizi territoriali oppure nell'ambito dei servizi territoriali la precarietà delle figure ovvero viene meno la continuità assistenziale Quanto è importante discutere di questi temi lo spiega Alessandro Dell'Erba presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari È fondamentale perché come ho detto stiamo parlando di una condizione che anche nosograficamente non è perfettamente definita e quindi il contributo come dire dell'Università e dei servizi territoriali insieme, il confronto ci permette di meglio intervenire in casi di questo genere o meglio di fare quello che si chiama il tuning o di cercare quanto più è possibile di personalizzare Esattamente il 4 dicembre l'Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata la presentazione al Centro Congressi di Roma alle ore 11 Prima uscita istituzionale in Basilicata per l'Orchestra Sinfonica Ico 131 giovedì nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il concerto in programma all'Hotel Ergife di Roma il prossimo 4 dicembre in occasione dei 60 anni dell'UMPLI Sarà la prima iniziativa di caratura istituzionale che per la prima volta vedrà impegnati contemporaneamente in scena i tre soci fondatori e componenti del Comitato Artistico il maestro e direttore d'orchestra Pasquale Menchise il tenore Francesco Zingariello e la violoncellista Giovanna D'Amato Siamo onorati e orgogliosi di questo invito da parte del Presidente nazionale dell'UMPLI questa vetrina ci proietta ovviamente come orchestra sinfonica 131 in ambito nazionale già fuori regione abbiamo fatto delle altre diciamo performance molto importanti voglio citarne una quella del Teatro Petruzzelli del 9 ottobre scorso poi abbiamo fatto anche diverse cose Trani, Gravina, Altamura Salerno, Cosenza ma questa veramente ci proietta in un ambito importante perché siamo stati scelti tra tante orchestre in Italia per cui siamo veramente onorati che possa questo progetto così importante che è visto nel mondo della musica un'unione stretta tra i professionisti della musica e la politica portare avanti la nostra orchestra regionale significa non solo tantissima cultura significa anche tantissimo lavoro per i professionisti significano tantissime prospettive per i più giovani siamo più che mai onorati come comune di poterci sentire parte di una professionalità così elevata che ci onora oltre i confini regionali bene è tutto per il momento grazie per essere stati con noi Lina da Regia